Continuiamo con l'argomento ordinamento degli array iniziato nel video precedente. Dopo aver commentato i numeri, altrimenti la compilazione va sotto sopra, proviamo come test minimale a stampare com'è l'array prima dell'ordinamento e dopo, ottenendo questo. Elenco dei fiumi, un ciclo che stampa, po' chilometraggio, adice, sono disordinati e questo secondo elenco, mi sono dimenticato di andare a capo qua, e invece la stampa dopo l'ordinamento, dal più corto al più lungo. Cosa interessante, in un algoritmo interessante, è il modo in cui ho fatto la stampa. Siccome avrei dovuto scrivere due volte di fatto lo stesso codice, il ciclo che fa la stampa, la cornicetta, mette il titolo e tutto quello che avrei potuto aggiungere per rendere piacevole la stampa, magari allineare, poi lo facciamo, questi valori su due colonne. Ho invece scritto una cosiddetta funzione utente, un sottoprogramma, cioè un comando che si aggiunge a quelli a disposizione, che ho denominato stampa fiumi, a cui indico come parametri, si parla di parametri, che cosa? I due array e il numero di elementi che li caratterizza, e in automatico il codice viene richiamato, si ritorna qua quando quel codice termina, si prosegue, quindi con l'ordinamento, e qui chiamo una seconda volta la stessa funzione, passando in ingresso gli stessi parametri, però questa volta gli elementi sono in ordine e la stampa è quella che avete visto. L'argomento funzioni è fondamentale in ogni linguaggio moderno, questo è solo un assaggino, ci torneremo con molto più calma, perché ci sono tantissimi particolari da sviscerare. Però, giusto per darvi un'idea di quanto poi non sia così complicato, almeno per funzioni semplici, anzi, le funzioni devono essere semplici, devono essere corte, altrimenti vuol dire che il codice è comunque mal strutturato, ecco qua, la funzione che stampa. Questo void sta a significare che in uscita, questi sono i parametri di ingresso, ma in uscita non ho nulla, nel senso che ottengo la stampa video, ma non ho un valore calcolato, una struttura dati preparata e restituita dal sottoprogramma. E allora si mette void, tipo void, che è un tipo speciale, perché comunque ogni funzione deve vedere indicato il tipo restituito. Quando c'è void, poi non sono però costretto a gestire proprio la restituzione. Beh, il nome è un identificatore che deve seguire le stesse regole dei nomi delle variabili. Qua dichiaro quanti sono e di che tipo sono i parametri di ingresso, quelli che ho indicato quando avete visto prima chiamare la funzione. Per dire che un parametro è un vettore, si mettono le parentesi quadre, aperte e tonde, così. Non sarebbe stato un errore metterci qua quanti fiumi, però avremmo legato la dichiarazione di questo vettore alla presenza di quella costante, che ho detto qua non sarebbe visibile, quanti fiumi dichiarate nel main. Invece così mi svincolo, può essere qualunque il numero di elementi di questo array, così come può essere qualunque il numero di elementi di questo array. Perché tanto glielo dico la funzione quanti sono, con un parametro a parte, è molto meglio così. Possono essere 10, 20, un miliardo di fiumi, io non cambierò più questo codice. Sarà quando la chiamo che dirò di fatto quanti sono quella volta i fiumi da considerare. È un passant, non è che si è obbligato a chiamare questo array fiumi, perché di fatto rappresenta i nomi dei fiumi. Potremmo chiamarlo anche x e questo y, ovvio che sarebbe stata una scelta un po' povera. L'importante è poi usare il nome del parametro indicato qui, nelle istruzioni che poi compongono il corpo della funzione, che è delimitato, è intuitivo, da questa graffa di apertura e da questa graffa di chiusura. Se ci pensate, proprio come il main, che restituisce, chissà chi lo vedremo, un intero, si chiama main e non ha parametri, in questo caso qua, in ingresso. E il corpo è di nuovo quello compreso tra le parentesi graffe. Certo, è una funzione speciale, è quella principale, perché l'esecuzione comincia da lei. Quando dal main invochiamo un'altra funzione, l'esecuzione si interrompe su quella riga, si passa all'esecuzione del codice della funzione, che darà risultati diversi se chiamata con parametri di ingresso diversi, al termine il codice, per così dire, si ricorda dove aveva fatto il salto alla funzione, si ricorda che era arrivato qui e ricomincia da quel punto. Il meccanismo è potentissimo, è fondamentale per gestire la moderna complessità delle applicazioni. Il codice è semplicissimo, cornicetta, poi un ciclofor con un suo contatore, che si ferma minore di quanti, stampa il nome del fiume, niente, ai chilometri. Le funzioni, e mi ripeterò volentieri quando ci dedicheremo solo a quelle, hanno innumerevoli vantaggi, oltre a rendere più chiaro e più breve il codice che le invoca, immaginate qua l'intero ciclofor prima e dopo avrebbe allungato questo codice, quindi c'è un risparmio di codice, sarebbe poi più difficilmente leggibile il codice del main. ha altri vantaggi come il concentrare una certa funzionalità in un punto solo. Se trovo un errore andrò a cercarlo solo qui, se la stampa è fatta male non andrò a cercarla chissà dove, andrò ad analizzare, passare al setaccio il codice di questa funzione. dovessi migliorare la stampa, allineando su due colonne il nome del fiume e i chilometri, andrò solo qui a fare la modifica, non nelle n copie che avrei sparpagliato per il codice con un copio in colla. Questo è importantissimo. Un miglioramento di un algoritmo usato internamente alla funzione, bene, andrò a portare quella modifica solo nella funzione, sempre e solo nella funzione. Una volta che la funzione è scritta, se progettata bene con i parametri giusti, potrò tranquillamente anche spostarla e riutilizzarla in altri progetti. Potrò addirittura memorizzarle in modo permanente in una libreria, cioè una raccolta di funzioni precompilate, che poi potrò richiamare semplicemente dal codice sorgente. Questo assaggino sulle funzioni talmente importanti che ho pensato di dedicargli alcuni piccoli approfondimenti anche nel prossimo video, che sarà quello conclusivo sull'argomento poi del sort, dell'ordinamento di array. A risentirci. Grazie. Grazie.